Ragazzi se avete bisogno di crediti passate da gofifaconis.com, link in descrizione e con il codice home avrete uno sconto pazzescamente incredibile Vai, 20.000 mi piace ragazzi, facciamo la search and discard con la full album di Tony Tubo Sì Ciao ragazzi, benvenuti al giornale oggi ragazzi Siamo qui di nuovo con un video pazzescamente incredibile Sì ragazzi non sono da solo perché comunque c'è Mr. Spartafraga TheFuseGamer e da l'altra parte dello schermo ci sono Tony Tubo e TheFuseGamer La coppia vincente Speriamo Perchè scopriremo Oggi ragazzi cosa andiamo a fare Una search and discard Praticamente full icon ragazzi come state adesso vedendo dalle due schermate Queste sono le nostre squadre E chi vincerà il primo che andrà a prendere i tre top player dell'avversario Per me saranno Mr. Spartafraga Thiori Tutti così Quanto Però ragazzi come state vedendo in questa squadra c'è anche un top player Per me Messi e per mi Ronaldo e un giocatore de merde Per me questo praticamente che si chiama Rosbeck e Smith New York Dine Ordine che ricordi Guain capito? Ah per quello? Che sono praticamente rispettivamente un bonus o un malus Quindi se io andrò a colpire Ronaldo avrò la possibilità di chiamare un altro giocatore Mentre se andrò a prendere il bronzino Andrea, i FuseGamer e Tony Pum Mi chiameranno Due a loro Esatto Due dei nostri Molto semplici ragazzi da search and discard Vi ricordo che se volete comprare delle maglie pazzesche incredibili come quella di Neymar C'è il link in descrizione Ragazzi voi due siete pronti? Sì è il tuo che siamo pronti Omar Allora andiamo dentro Con la search and discard Con lo scartamento Allora andrea io direi che i migliori giocatori in questo schema si dovrebbero nascondere a centrocampo Quindi cc Decidi tu destro o sinistro? Mettiamo destro vai Cc destro Bene ragazzi Alla prima colpa avete preso subito un 94 Chi è lì era il Messi Quindi avete un altro tiro Bomba Vabbè Che già non lo vuoi scartare Non lo fa male al cuore Vuoi scartare il Messi? Ciao Messi Allora andrea sempre per i miei ragionamenti Si fai tutto tu Toni Andrei sui terzini Decidi tu destro o sinistro? Tonitubo Terzino destro Andiamo Ragazzi avete preso il giocatore che io preferisco in questo gioco Passiamo dall'argentina al Brasile Si tratta bloc Tiro Naldigno Tiro Naldigno Ah è stato il fenomeno Però va bene Naldigno non ci dispi Ma è uno dei tre Naldigno No non è uno dei tre ma comunque a malincuore lo vado a scartare Eh vabbè Eh vabbè che bui che sia Eh sì Eh vabbè Mo finalmente tocca a noi però Vai E mister il primo tiro lo devi chiamare tu Lo chiamo io? Eh sì Io so che ce l'ho chiamato il terzino destro Io chiamarei il terzino a sinistro Bravo mister Già avete beccato uno dei tre Godo chi è? Thierry E andiamo dentro con lo scartamento Thierry Che male questo è il mio account Ne manca il suo E io perciò ho scarto facile Ah ecco Hai mano il pad Tony? Sì 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 Eh beh gli viene molto facile Così è in dolore per Andrea Posso dire un gru Vai tu Attaccante centrale Vabbè hai preso un portoghese Ecco Che costa Ovvero lui costa Va benissimo Va benissimo Omar Ok Quindi abbiamo chiamato Prima il terzino di sinistra Sì Io chiamerei Tipo uno dei due ali Ok Opposta Opposta Che che abbiamo chiamato Io gli ho preso il ring Ieri ha giocato come alla destra Alla sinistra Quindi chiamerei proprio l'allà sinistra Allora Abbattiamogli Sullo stesso lato Vai stesso lato Ok Quindi alla sinistra Esatto esce Allora forse è più scarso della squadra Ed è Ocho 5 stelle skin Tra le icone Tra le icone Non è bello Dai Bo Ciao Andrea Vuoi vedere come ti vecco il fenomeno? Sììììa Difensore centrale sinistro Ok un bar più senti sei sicuro o vuoi cambiare toni sono sicuro al 107 per cento perché 107 proprio perché cr7 hanno 109 scusate ma io non so se in qualche modo ci sta spiando ha preso proprio non è collegata col suo telefonino dai i sensi di questa dimostrazione giuro ti giuro ti giuro sostanzi no aiutori tubo sensitivo hashtag come con me questo è davvero il fenomeno si è vero non ti fidi di me mi piace le doppie no quindi come del doppio godo il doppio dai o mare adesso ci beccherai sicuramente maradona allora noi chiamiamo noi chiamiamo il terzino di destra aveva beccato ronaldo 96 quindi abbiamo un altro tipo cristiano 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 quindi al club scatta andrea lascio a te no no come faccio ci chiede sempre finito adesso mi staremo un altro piano di prende l'ora mobili maradona su sicuro perché andorica via simile a maradona bravo questi capelli io direi portiere e si bene ragazzi allora mistero e non chiamano il portiere per me dicevamo maradona ma diciamo che non è vero perché maradona è meglio di questo giocatore antonio vedi chi sarà te l'è oddio santo scusa andrea non c'è la faccia scusa andrea ma pensavo di noi l'ero 98 andrea dovremmo fare la stava perdendo si ciò che parola che non abbiamo perso è sì perché se lo è vero se prendiamo maradona hanno perso a voi invece mancano ancora maradona e del re maradona e del re allo toni io direi di buttarci sempre sull'attacco che dice ho difeso allora il fatto che gli abbia messo r9 in difesa significa che forse si ce l'ha buona in attacco allora in attacco ti ho chiamato il sinistro no prima il centrale solo l'attaccante chiamiamola alla sinistra alla destra alla destra sicuro toni anche questa volta sono sempre sicuro di ciò che ti comiste sicuro anche per la seconda conferma sì io te lo do andiamo sempre l'opportunità ma visto che non avete voluto coglierla avete colpito chi è rieri ma non sii manca 1 a 1 possiamo vincerla 1 a 1 possiamo vincerla dai che rimi tocca scartarlo pure perché chi perde elimina il club no eh sì eh no chi perde scarta tutta la squadra beh mister io sinceramente non mi ricordo neanche quelli che avevamo chiamato no quali sono andrea dai dici un attimo quelli rimasti allora i due difensori centrali tre centrappisti attaccate alla destra tre centrocampisti alla destra si centrocampo ne abbiamo chiamato neanche uno no non ne chiamiamo centrocampista non chiamare destra dai destra centrocampista ccc di 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 centrocampista destro ok deco bene ragazzi non eccede se è portoghese e vabbè deco facile con le con le con le con le con le di aggiornare su quali luoghi del campo noi non abbiamo chiamato toni toni ti lancio una sfida se questo video supera ventimila mi piace ventimila ventimila eh facciamo la search and discard full icon però sull'account di fifa normale è appunto ventimila ventimila non ce la può fare una search and scarpe di me va bene ma in ventimila mi piace ragazzi facciamo la search and discard con la full icon crotoni di toni tubo sia ok ragazzi quindi avete che non è che c'è rimasto allora voi ci avete ancora il portiere il difensore centrale il terzino sinistro i due centrocampisti quello centrale e di sinistra e la sinistra abbiamo fatto sempre schifo alla sinistra alla sinistra bene ragazzi avete preso il malo che sono vero cioè quindi voi due posizioni esatto esattamente esatto allora in difesa chi hai già difesa due difensori centrali due centrocampisti due attaccanti l'attaccante centrale attaccante destro centro la pista centrale centro la pista sinistra e due difensori ok allora allora noi chiamiamo l'attaccante centrale la prima punta è il miglior centrocampista di questo gioco ma non già lotta ma la lotta una caccia d'un cancia torino un canciatore si sta a scartare bisogna farlo e per la come si diverte a scartare si era una gatti che ricorda quel giorno che ha scartato il famoso giorno che ha salutato e mentre se ne andava faceva credo che imparne chi non ho scartato capito è invece in difesa chi avete i due difensori centrali allora chiamiamo destro destro difensore centrale destro yashi 94 va bene va bene basta che ecco ma quindi ci manca maradona tutti e due ah poi tu c'è maradona eh si ok allora io vi chiamo sassini a me posso no lui no no e va terzino sinistro ragazzi siete sicuri sì 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 allora se non aspetta se fa lo strozzo come no vai sì 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 meno male mi stavo mangiando la lingua avete scappato maure 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 cazzo quando avete iniziato a pensarci ha detto no che cosa ha fatto gelato il sangue esatto il sangue nelle vele allora a difensore centrale sinistro e dei centrappisti sinistra e centrale alla destra siamo alla fine chiamiamo alla alla destra ma è mai con la blanca cosa quante vede mancano a voi quattro il portiere il difensore e due centrocampisti cioè loro non ci hanno preso il malus qua quale dovrebbe ripetire portiere difensore centrale e due centrocampisti noi abbiamo messo per le apporti che stanno mi sembra da una porta portiere ma ragazzi visto che tutte le volte mi dite ma in porta ci metterà chissà cosa ho proprio messo un portiere ovvero yashin bella a tre giocatori contro i giocatori se prendiamo il malus loro hanno due tiri allora noi chiamiamo il centrocampista centrale di sinistra siiii la lussa porta in le rete dico in siiii allora abbiamo due tiri uno su uno io ok abbiamo tu lo chiammo a su questo difensore centrale perchè non lo chiammo difensore centrale allora il difensore centrale è lì chi era no toni no toni no adesso avete un tiro per prendere maradona eh si perchè poi toccamo noi vi spezziamo le gambe chi manca il centrocampista centrale e il centrocampista centrale di sinistra due toni due ne mancano eccomi voi o il centrale e il sinistra il centrale e il sinistra avete il 50% di possibilità di vincere questa da search in sinistra bravo lo sto ammizzando pure io volevo dire centrocampista centrale e sinistra vai siete sicuri siiii scartalo ok ragazzi venite di qua che facciamo l'outro siiii godo godo oh mamma 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 oh mamma mamma sai perchè mi batte il corazon ho visto maradona ho visto maradona ehi mamma innamorato son e scarta 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 e scarta 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 sai perchè tu hai scarta maradona perchè l'abbiamo indovinato l'abbiamo indovinato è tutta la scuola oh ma lo sai che pure io mi mancava puiole maradona mi mancavano e vabbè scartiamo anche puiole è giusto è giusto è giusto è giusto per una questione di correttezza siiii quindi ragazzi abbiamo ancora maradona siiii dico e salvo da loro esatto quindi ragazzi mi raccomando 20mila mi piace e facciamo la search and discard con la full icon di toni tubo tanto vinco sempre io quindi ragazzi lasciatemi un mi piace lasciatemi un mi piace un bel commento iscriviti al canale sui squadroni e noi ci ripetiamo ad un prossimo video BELLA CASSI Diego è stata tutta la scuola scartata VAMO scusami ha una poca vita vinti mila like che fai non avevo neanche i doppioni di Ronaldo il fenomeno Henry capito proprio da masochisti sta sfida porca miseria oh